Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a controllo nel corso della settimana oltre 1870 tra persone e attività commerciali, 108 le sanzioni complessive, non solo anti-covid ma anche per spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando di sigarette, contraffazione e pirateria audiovisiva. I controlli anti-covid hanno riguardato soprattutto Napoli città ma anche l'intera area metropolitana e hanno portato alla contestazione di sanzioni a carico di 66 tra persone senza mascherina, in strada senza autocertificazione, senza validi motivi, fuori dal proprio comune di residenza o domicilio e di sette attività commerciali. In particolare nel capoluogo, nel quartiere San Lorenzo, il secondo gruppo ha scoperto una fabbrica del falso sequestrando un opificio clandestino e più di 4.000 articoli tra borse Louis Vuitton e Gucci, contraffatte, accessori e prodotti semilavorati, denunciati tre responsabili. Nel quartiere San Carlo Arena, il secondo nucleo operativo metropolitano Napoli, ha individuato un deposito con all'interno 4.100 borse contraffatte e 100 metri di tessuto Louis Vuitton e Gucci, nonché attestazioni e certificati di qualità e autenticità fasulli, denunciato un 58enne per contraffazione e ricettazione. Nel quartiere Pendino, i baschi verdi del gruppo pronto impiego all'interno di un magazzino hanno sequestrato 10.200 locandine e 7.780 cd-dvd illecitamente riprodotti e privi del marchio SIAE, denunciando un 50enne per ricettazione e violazione al diritto d'autore.